buongiorno a tutti oggi siamo all'ultima giornata di summit e partiamo con questa puntata di Artes Academy in cui parleremo di progetti di destinazione, destination management e buone pratiche. Ora l'argomento è ampio, molto più ampio di quanto io tratterò e chiaramente vi darò una prospettiva dal punto di vista dell'osservatorio e della visione che ci portiamo dietro come progetto Artes, per cui non ho l'ambizione di trattare l'argomento in modalità esaustiva, non tratterò sicuramente l'aspetto di comunicazione che è fondamentale e al momento non tratterò l'aspetto di promo commercializzazione in modo diretto, parlerò della creazione, del processo di creazione di un sistema attrattivo nel territorio e quindi parlerò della costruzione del prodotto, dell'offerta e del motivo per cui il turista dovrebbe venire in un territorio. Allora, detto questo, ripeto alcune cose già dette in questi giorni ma cercherò di essere veloce per non stancare chi le ha già sentite, ma per chi non le ha ancora sentite, allora è evidente che al netto del covid, che però aumenterà questo tema che sto per dire, la motivazione del viaggio si sposterà, si è già spostata, ma si sposterà ancora di più dal punto di vista di dove andremo a una prospettiva di che cosa vivremo. Quindi da una parte abbiamo il turismo diciamo abituale, quindi il Colosseo è solo per mettere in pista uno stereotipo, le spiagge, le camere da letto, quindi io vendo la destinazione vendendo la materia prima cosiddetta che ho nel territorio, quindi Colosseo è materia prima, è stereotipo, l'Italia si vende da sola, ci porta a un modo di fare turismo degli anni 50. Ecco, però noi con questo sistema sappiamo che avevo perso quota di mercato, eravamo primi, diciamo, qualche decina di anni fa a livello mondiale, oggi siamo sesti, mi pare, dopo la Gran Bretagna, che è tutto dire come spending, sto parlando di incoming, attenzione, quindi incoming, quindi sto parlando di un turismo straniero, ripeto al netto del Covid, ovviamente, che viene in una destinazione. Allora, chi ha meno si attrezza e costruisce attrazioni, ho citato in questi giorni più volte la Nuova Zelanda, il turismo più avanzato che quasi raggiunge lo story living, ecco, voi direte che sono un attimo auto, come dire, celebrativo, al momento, a livello mondiale, non esiste una sofisticazione più alta dello story living di artiste, questo ve lo devo dire con totale sincerità, una sofisticazione, che non vuol dire che, come dire, che sia, cioè, è il motivo con cui si crea l'attrazione, va bene? Ecco, quindi, chi si adotta, chi si avvicina, oggi, diciamo, stanno aumentando, perché chiaramente l'innovazione ha bisogno di tempo per essere capita, introdotta, ma chi ha meno si industria per creare attrazione. Quindi, è chiaro che Firenze e Venezia hanno un turismo, però attenzione che è un turismo che rischia di scivolare su un turismo low spending, è un turismo che non ha ritorno. Ecco, sappiamo che a Venezia c'era il turista di ritorno, comincia a non esserci più. Il turista di ritorno è un turista che spende un po' di più, ma perché è più lento, gode di più il posto. Quindi, noi dobbiamo creare non solo attrazioni nei luoghi dove, diciamo, l'attrattività è contenuta e quindi abbiamo infinite opportunità nei borghi, insomma, nei posti dove magari non c'è una materia prima eclatante, ma è il territorio che è eclatante. Però, come dire, è anche difficile distinguerlo. Ecco, quindi lo story living ti aiuta a portare una distintività. Ecco, dall'altra parte, anche le città famose hanno bisogno di creare una nuova tipo di attrattività per riportare il turista che torna in quella destinazione perché è interessato alle emozioni, alle relazioni e ai tematismi. Quindi qui citerò sempre l'offerta che voi potete vedere sul nostro sito di www.johnplace.com. A Venezia abbiamo fatto un lavoro veramente notevole con un bel gruppo di guide turistiche con dei prodotti che sono fuori scala, che vanno su tematismi totalmente differenti per scoprire una Venezia assolutamente inedita. Ecco, quindi al di là del ponte di Rialto, della cattedrale di San Marco, della Basilica di San Marco e Palazzo Ducale, ecco, Venezia, basta spostarsi di tre calli a sinistra rispetto alla Basilica e ti ritrovi in una Venezia sconosciuta dove non c'è confusione anche quando in piazza è pieno così. Ecco, quindi a maggior ragione lo possiamo fare anche in altri luoghi dove magari ci sono situazioni meno note che vanno evidenziate con appunto questo sistema del palinsesso esperienziale. Allora, il peso delle activities, quindi pur essendo marginale o meglio un 10% il segmento tours and activities, qui dentro ci sono i musei, qui dentro c'è la visita guidata, quindi qui dentro c'è tutto quello che non è il viaggio nel senso complessivo però sta diventando il motivo del viaggio. Quindi l'attrazione comincia dalle activities. Questo ci porta a fare tanti ragionamenti anche con tutto il mondo dell'ospitalità che in Italia fa un po' fatica a fare il salto di posizionamento che invece sta avvenendo un po' tutto il mondo. Io ricordo che la prima volta che ho letto questo tema che l'ospitalità diventa hub, è un portale di ingresso nel territorio, per cui è chiaro che l'albergo non può vendere solo camere e non può neanche ridursi che mette sul tavolino in fianco alla reception, tanti bigliettini dove dice, ma arrangiati tu. Allora, la offerta di activities deve essere condivisa dal mondo dell'ospitalità. Direi che chi si occupa di extra alberghiero già lo fa abbastanza bene, ha cominciato a farlo, ma sicuramente c'è ampio spazio per gli hotel, per cui anche la comunicazione poi ne viene di conseguenza. Ecco, allora, tornando all'esempio del petrolio, tutti dicono, ma come mai l'Italia non fa di più turismo? E quindi ricordo i numeri della Spagna, la Spagna che ha un PIL che è la metà dell'Italia fa 68 miliardi nel 2019, mentre l'Italia mi pare che faccia 44, fate la differenza e c'è qualcosa che non torna, cioè non può essere che la Spagna fa 24 miliardi in più di incoming dall'estero. Vuol dire che l'Italia, pur essendo la meta più ambita, non è la meta più acquistata. Nei sondaggi mondiali in cui viene chiesto qual è la meta dove vorresti andare, l'Italia è il primo posto. Quindi è nei sogni, è nell'aspettativa di emotion del turista, ma poi non corrisponde all'acquisto. Il fai da te certamente va bene, ma il fai da te è anche un turismo mediamente un po' più basso, mentre l'intermediato fa fatica a mandare in Italia il turista che vuole immergersi dal protagonista, il cosiddetto consumatore o prosumer, se vogliamo parlare dell'economia dell'esperienza. Allora il tema è che noi siamo un po' abituati a vendere la materia prima, il petrolio, ma il petrolio non si può vendere da solo, bisogna estrarlo, quindi ci vuole un processo di estrazione, un processo di raffinazione e poi la distribuzione. Diciamo che noi come Artesse il nostro punto saliente è il processo di estrazione, di cui parliamo un po' oggi, e il processo di raffinazione, quindi di costruzione di un prodotto in funzione di un bisogno. Il petrolio tiri fuori la benzina, tiri fuori i polimeri per fare i tessuti, i polimeri per fare la plastica, eccetera. Quindi dal petrolio turistico poi noi dobbiamo confezionare prodotti che vanno sui vari target di mercato. Ecco, allora il turismo esperienziale è uno dei turismi, è un turismo pervasivo però, e la definizione che noi diamo, e penso che ormai comincia a essere condivisa dagli operatori del settore, anche se c'è un problema di ambiguità della parola perché ormai esperienziale è diventato sinonimo di attività. Quindi io faccio un giro in bicicletta, ho fatto un'esperienza, faccio una visita guidata, ho fatto un'esperienza. Quindi si è creata un po' un'ambiguità rispetto al significato della domanda del turista. Il turista, appunto, consumatore, desidera mettere le mani in pasta, cioè desidera agire, essere protagonista. A questo tipo di turista interessa di meno sentire tante parole, diciamo, un intrattenimento tipo una visita guidata, che sia davanti a un museo o che sia in una cantina, perché poi non è che cambia. Un sommelier mi fa un discorso tecnico sul vino. Se io sono un sommelier, ascolto il sommelier e sono contento, ma se sono un turista, meglio sentire troppe cose. Mi interessa poco, mi interessa se sei coinvolto. Ecco, soprattutto mi interessa, comunque fruisco in modo gradito, gradisco molto l'incontro con i locals, sentirmi cittadino temporaneo. Ecco, qualcuno nei vari webinar che stiamo tenendo in questi giorni ha detto che la relazione è premium. Interessante, no? Quindi il tema della relazione è centrale. Tra l'altro Artes, appunto, il tema della relazione è il primo tema, perché Artes vuol dire un acronimo di animazione, relazione, turismo esperienziale. Allora, questo si porta dietro un ragionamento per cui, da una parte, c'è, ci sarà sempre un turismo delle solite cose. Io dico della materia prima. Qui la slide comincia a avere qualche anno, per cui questo 60% penso che si sia abbondantemente ridotto. Mentre il turismo dell'esperienza, che segue le passioni e i gusti, qual è il tema? Che questo scende, questo sale, ma cambia la logica di accesso al mercato, perché da una parte abbiamo i mercati di massa, dall'altra parte abbiamo il cosiddetto la massa di mercati, o Coda Lunga di Chris Anderson, cioè andiamo incontro a una ipersegmentazione, per cui, finché sono sul fai-da-te, è abbastanza facile commercializzare. Quando invece vado sul turismo di valore intermediato, o addirittura sul tailor-made, devo guadagnarmi, in questo segmento esperienziale, la fiducia della filiera. Ed è qua che l'Italia è considerata un po' improvvisata e poco professionale, che è il motivo per cui siamo nati come Artes. Portare professionalità, quindi mercato più piccolo, adesso diciamo siamo nel Covid, quindi è chiaro che il tema esplode, perché la competizione tra le nazioni diventa guerrita, e o va in Francia o va in Italia, non è che può essere, come dire, noi dobbiamo portare nei prossimi anni. Quest'anno avremo sicuramente italiani, anche l'anno prossimo, il mercato sembra che ci vorrà due o tre anni perché si riprenda. Però in tutto questo tempo noi, per esempio, stiamo lavorando veramente tanto, pur online, ma con progettualità per aiutare anche le destinazioni a ripensare l'offerta e le modalità di prospezione verso il mercato. Allora, distinguersi per rinascere. Prima ce l'ha scritto, ieri avevo scritto distinguersi per non morire, però mi è sembrato forse più positivo, più propositivo. Cioè, allora, noi possiamo rinascere se mettiamo distintività. L'alternativa è abbassare i prezzi. Quindi, come si fanno a prendere le quote di mercato? Come si fa a non perdere le quote di mercato? Perché adesso si scatena la bagarre appena riparte. Cioè, l'Europa fa il 51% degli arrivi, non lo sapete. L'Italia viene dopo, Francia, Spagna. Il Portogallo sta salendo non poco. Ecco, però Francia e Spagna hanno preso quote. L'Inghilterra ci ha superato, quindi noi, diciamo, comunque siamo il sesto paese mondiale per turismo, per cui non è che vada male. Però, perché la torta si è allargata nel corso degli anni, ma adesso che la torta si è ristretta, rischiamo di avere problemi in tutta l'attività dell'incambio. E da qui, allora, creare le attrazioni, attrattività, attrarre. Che noi abbiamo il Colosseo, lo sanno tutti. Cioè, non dobbiamo dirglielo. E in questo senso è vero. L'Italia si vende da sola, se vendo il Colosseo. Ma se io vendo gli italiani, che vuol dire se vendo il turismo esperienziale, l'Italia non è chiaro cosa vediamo. Quindi dobbiamo confezionare prodotti che si basino su dei tematismi, che puntino alla relazione, la quale crea l'emozione, la quale crea la memoria, e la memoria poi aiuta a prendere nuovi clienti, a fidelizzare il ritorno e il passaparola. Quindi, per attrarre un cliente di più alto livello, qui stiamo facendo un discorso di marketing. Quindi, ipotizzando di avere la possibilità di creare un sistema commerciale, il cosiddetto marketing mix, prodotto, prezzo, cliente e promozione, che attiri, che scelga il cliente. E questo è il sogno di tutti i marketers. Quindi, qual è il cliente che noi sogneremo di avere? Un cliente medio o meglio alto, allora zeriamo il fai da te. No, il fai da te continuiamo, però cerchiamo di sviluppare il cliente di valore, perché mi bastano meno arrivi, ma più valore. Quindi anche risolviamo il problema dell'overcrowding, ove ci sia. Ecco, quindi a questo punto serve un'offerta distintiva, prodotti innovativi e professionali, con marchi di qualità che rassicurino. E quindi palinsesti flessibili, facilmente adattabili ai diversi target. Qui c'è tutto il teorema appunto della coda lunga. Cioè, il singolo prodotto turistico ruota poco, però allora devo avere un prodotto che si riesce a personalizzare in modo estremamente semplice. altrimenti io dovrei fare tailor-made e quello è per pochi. Quindi il costo di personalizzazione deve essere estremamente contenuto. E qui cominciamo col tema appunto del territorio. Il territorio diventa palcoscenico, integrato. Ecco, su questa base, così abbiamo concluso questa prima introduzione, è nato il progetto Artesse, ormai come analisi abbiamo cominciato mi ricordo il primo studio, l'ho fatto nel 2009, poi nel 2014 abbiamo fatto il nostro brief concettuale, poi nel 2015 siamo partiti. Quindi ormai sono sei anni che siamo attivi sul mercato. Dunque, grossomodo abbiamo formato più di 500 persone, siamo al cinquantesimo corso, quindi penso che diciamo siamo abbastanza conosciuti nel settore, nel mercato, ma dico questo per dire che abbiamo visto che chi ha partecipato alla nostra formazione come singolo ne ha avuto beneficio, anche se poi non è diventato operatore del turismo esperienziale, perché comunque qualcuno dice mi avete deframmentato il cervello. Cioè abbiamo rimesso in ordine un po' gli addendi del sistema. Ecco, allora abbiamo creato questo disciplinare che dà ordine, disciplinare è un binario che diciamo per il 70% va bene per qualsiasi situazione, poi un 30% abbiamo innovato con questo meccanismo dello Stori Vivi, che sono piccole avventure dove il turista deve compiere una piccola impresa. Si può anche fare una cosa più semplice, però se vuoi diventare operatore, quindi entrare, ecco, nell'associazione Assotes, io ti devo portare a diventare lo chef del turismo esperienziale. Quindi allora ti porto a fare lo Stori Vivi. Poi lo Stori Vivi lo farai sempre, magari no, però anche quando fai un prodotto più semplice hai in mano appunto un binario, una metodologia su cui garantire i parametri di emozione da una parte, ma anche di sicurezza normativa, eccetera. Il turismo esperienziale è per sua natura più pericoloso del turismo normale. Poi più recentemente abbiamo creato i club di prodotto di tutti coloro che sono titolari, quindi non solo gli otte, ma anche alberghi, agriturismi, eccetera, che hanno appaltato la progettazione di prodotti di questo tipo. Per cui li abbiamo messi dentro un club di prodotto di cui parleremo adesso fra qualche istante. Diciamo, per quello che andiamo a dire sul tema dei progetti di destinazione basse appunto i tre pilastri concettuali. Allora, noi ci appoggiamo al di là appunto del disciplinare che è, come dire, un esito di una riflessione, di un prodotto, però tutto nasce da tre cose. Allora, nasce da valori, quindi tutto il progetto d'artessi appoggia sull'economia civile. Infatti, artessi è una società benefit. Il nostro pensiero è che l'economia, quindi non turistica, in generale, deve essere sempre di più centrata sulla persona, più che sul profitto. La legge prevede che l'impresa massimisi il profitto. Ecco che allora hanno fatto, anche in Italia, hanno preso la legge americana delle B Corp, delle Benefit Corporation, o società benefit in Italia, per cui è possibile oggi avere un'azienda, come per esempio l'artessi, che mette insieme sia l'aspetto profit, per cui non è terzo settore, non è un'associazione, e sia l'aspetto di valore sociale. Quindi centralità della persona, bene comune. Ecco, il turismo è un bene comune. In questo senso, sono persone che accolgono persone. Quindi cambia, se io che sono la guida, l'otte o l'albergo, vieni qui e c'ho i dobloni sugli occhi, perché ti devo spennare quattro soldi, o se io sono veramente sincero nel desiderio di accoglienza, accoglienza umana, quindi di modo all'inglese, human-centered, però al di là dell'inglese, se io ho un sentimento vero, sincero, e quanti italiani ce l'hanno? Tantissimi. Quello è premium. Questo tipo di relazione è premium, che vuol dire che un microsecondo prima io sono interessato a te come persona, poi certamente se sei venuto qui mi pagherai anche la camera dell'albergo e tutto quello che facciamo. Quindi economia civile, ma un'economia centrata sulla persona. Allora, è chiaro che se io devo fare un progetto di destinazione, devo mettere insieme un territorio con tutti i portatori di interesse. Sappiamo che noi facciamo fatica a lavorare insieme, ecco, diciamo che come progetto Artes abbiamo incontrato questa teoria U, che vi lascio come riflessione, di Otto Scharmer, un professore dell'MIT tedesco, che con tutto un gruppo hanno creato un processo di cambiamento sociale, quindi che in qualche modo contribuisce a sviluppare appunto impresa secondo i temi dell'economia civile, anche se loro non si rifanno l'economia civile, ma si rifanno la centralità della persona. Quindi, per fare processi di cambiamento, quindi se io devo portare il territorio a essere una destinazione centrata sulla persona, su valori di relazione, eccetera, abbiamo bisogno di processi di cambiamento, li troviamo con la teoria U. Infine, diciamo, questo, chi si occupa di turismo esperienziale, certamente tutti hanno a che fare con tutto il pensiero di Pine and Gilmore, che sono diventati famosi con il loro libro del 99 di Experience Economy. Ecco, ricordo che quello che è scritto lì, da lì abbiamo preso anche molte cose su cui si basa il nostro disciplinare, questo è importante saperlo. interessante sapere che quando loro fecero la ristampa nel 2011, che io ho tra l'altro in inglese, c'è scritto, e non era ancora decollata, diciamo, il tema dell'Experience Economy, che non è solamente il turismo, è pervasiva sul modo di fare il business, no? Every business is a stage, vedete? Work is theater, every business is a stage. Ecco, ma poi con i social media è decollato, perché lo storytelling dei social media ha aiutato proprio, per cui oggi, diciamo, la comunicazione e l'animazione dei brand passano attraverso logiche prese da queste spese. Quindi, ci è voluto 12 anni per che questa cosa prendesse e cominciasse a portare frutto. Allora, il concetto di destinazione. Dunque, se avete domande, scrivete pure, le guardiamo in fondo. Adesso vado come un treno, così, diciamo, in questo ultimo quarto d'ora vado a ragionare, appunto, fatta la premessa, concetto di destinazione. Questo preso da Wikipedia. Una destinazione turistica è un ambito territoriale nel quale ha sede un complesso di attrattive che possono soddisfare i bisogni e gli interessi di un determinato segmento di domanda turistica. Non esiste una definizione migliore di questa. Allora, cominciamo a dire che un ambito territoriale non pensiamo che sia, come dire, il borgo di Mondaino, di Mondaino, che ieri ha fatto un intervento, non è, non stiamo parlando anche di quello, chiaramente, facciamo un progetto a Mondaino, facciamo un progetto a Venezia, facciamo un progetto a Grosseto, facciamo un progetto in un ambito, in una regione. Ecco, attenzione che se noi prendiamo alla lettera, per me è destinazione i Castelli della Loira. I Castelli della Loira sono 350 chilometri, quindi la destinazione, secondo il concetto che noi di Artes vogliamo sviluppare, non vede il micro-macro punto territoriale autogratificante, ma un ambito territoriale, che può essere anche in tutta l'Italia, dove c'è un tematismo condiviso, per cui, senza fare nome e cognomi, noi oggi stiamo collaborando con associazioni in realtà tematiche, cantine per esempio, ma non faccio nomi finché non sarà pronto tutto quello che stiamo facendo, che nascono con associazioni nazionali e il territorio di vita Italia, per cui faremo vivere su scala nazionale delle animazioni intorno a progetti di destinazione, per cui il catalogo che ne viene fuori è un catalogo integrato, che va a soddisfare i bisogni e gli interessi di un determinato segmento di domanda turistica. Quindi vuoi vivere un'esperienza fatta in quel modo lì, sei appassionato, eccetera, eccetera. Ecco, allora, la destinazione non è più la singola cantina, ma è il territorio nazionale su cui un certo numero di cantine insistono e ciascuna con un suo specifico genio sloci che consente come i castelli della Loira, che non c'è nulla di esperienziare nei castelli della Loira, almeno io l'ho fatto 30 anni fa, tu vai, però è tutto integrato, vai al castello, l'ospitalità è armoniosa, tutte le sere nel paesino del castello c'è lo spettacolo Son e Lumière, 10 euro, quindi è un'offerta diciamo popolare, ci sono duemila persone che guardano uno spettacolo eclatante, quindi lo spettacolo è eclatante, tu però sei passivo, Son e Lumière, chi li ha visti, spettacoli veramente belli, dove si mette in luce il genio sloci del territorio, spunta sempre fuori Leonardo da Vinci per loro e diventare loro genio sloci, già 40 anni fa mi ricordo che insistevano quando ancora noi non facevamo tutta quella pubblicità su Leonardo, ecco, però la destinazione sono 350 chilometri, quindi è qui che è il punto dove noi siamo un po' debolucci in Italia, cioè costruire pali in sesti e cataloghi destinazioni che hanno senso per un tipo di cliente che è appassionato per cui quando tu poi fai il viaggio tu sei sempre dentro quella destinazione non un'altra, quando si fa il Castello della Loira non è che ti preoccupi di vedere altre cose, si poi arrivi a Parigi e poi da Parigi poi fai altre cose, ma in quella settimana tu fai come se fosse la teacrucisse nel senso positivo fai le tappe di tutti i castelli e sei dentro la destinazione dei castelli. Ecco, allora vuol dire che noi possiamo creare destinazioni locali o nazionali che contengono un turista che in quel periodo fa una monografia, cioè fa un viaggio su quella roba lì, non esce da quella roba lì. Questo vuol dire che si aprono le possibilità di concetto di destinazione, per cui non è solo legato al territorio, ma è legato anche ai tematismi, quindi turismo di impresa, turismo delle cantine, turismo gastronomico, ma devo avere un filo logico, quindi nel caso dei castelli della Loira sono i castelli, nel caso dello story living è lo story living che diventa attrazione, diventa il castello. Ecco, non so se si comincia a capire. No, altrimenti se non faccio così non ho l'attrattiva, perché allora è tutto un brodoramento di roba che non c'è un capo o una coda, ok? Allora, per fare questo, quindi stiamo parlando allora di destinazioni in questo senso, sia del territorio, ma anche di un territorio più ampio, dove però gli attori hanno, diciamo, un genio slot integrato a livello catalogo. Allora, bisogna aggregarsi, non c'è modo di fare diversamente, bisogna trovare formule di aggregazione e, ne conoscete, diciamo, noi puntiamo molto sul turismo, sul club di prodotto, perché è una formula leggera, si può fare anche la rete di impresa che diventa club di prodotto, ma, come dire, club di prodotto è un marchio con un regolamento, ok? C'è un regolamento che quindi se tu fai parte di un club di prodotto sai queste caratteristiche. Quindi, è chiaro che il nostro punto di vista è che funziona se non è invasiva e si concentra su obiettivi, valori di ciascun membro e sulle esigenze e limitatamente sulla strutturazione dei rapporti. Cioè, noi non dobbiamo creare delle cattedrali per cui il costo di gestione mi va a mettere costi, scusate, eccessivi. Dobbiamo stare leggeri e quindi, anche perché un soggetto potrebbe far parte di, 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 tanti club di prodotto perché a seconda di come si infila nel segmento del target. Ecco, ricordo questa battuta la cito perché mi piaceva da un proverbio africano che dice se vuoi andare veloce vai da solo e qualche volta bisogna far da sé e si fa per tre. Quindi, è vero che chi fa da sé fa per tre. Se vuoi andare veloce, se vuoi andare lontano bisogna invece andare insieme agli altri. Allora, è chiaro che l'Italia ha un bel problema perché ci porta dietro una storia di campanellismo che fa parte della nostra cultura. Cioè, noi siamo, il valore del petrolio turistico è la frammentazione e quello è il petrolio. Al tempo stesso la frammentazione dimostra una difficoltà di metterci insieme per cui la medaglia c'è sempre uno risvolto positivo e uno negativo. Allora, il tema è che qui si gioca la partita che diciamo, io sono positivo perché adesso al di là di Artes in generale vedo tante formule di aggregazione che funzionano, tante realtà che si aggregano, tanta voglia di mettersi insieme. Quindi, quando i problemi cominciano a essere grossi in italiano poi trovo lo guizzo e riusciamo anche a fare quello che storicamente non siamo stati capaci. È chiaro che chi si aggrega è un ago nel pagliaio. Cioè, la cultura italiana fa fatica ad aggregarsi, lo vedete? Siamo fatti così quindi possiamo anche arrabbiarci con i politici ma siamo noi italiani che siamo fatti così. Ora, la cosa positiva è che per mettersi insieme bisogna trovare persone diciamo affini e quindi cercare aghi nel pagliaio. Però a livello Italia su scala Italia ci sono cioè gli aghi ci sono quindi ognuno si cerchi ecco noi come Artes lentamente troviamo gli aghi e poi alla volta aumentiamo in questa rete che si basa più sui valori che sull'aspetto economico. Lo ripeto non è che l'aspetto economico non sia importante ma i valori ci tengono insieme valori condivisi e poi viene anche l'economia. Ecco, allora un progetto di destinazione adesso non farò noi abbiamo un processo strutturato in dieci fasi e velocemente vi faccio capire di cosa si tratta. Allora intanto quando operiamo in un territorio in una destinazione scusate quindi può essere appunto il morgo dove c'è un progetto nel morgo ma può anche essere l'Italia perché un certo numero di cantine vogliono fare un progetto di rete in Italia ok? Per cui il territorio è la destinazione a Italia vista attraverso gli occhi di quelle cantine d'accordo? Allora si costituisce il comitato guida il nostro compito è di erogare come dire della consulenza di fatto e cercare di capire se c'è un piano strategico l'esistente le intenzioni e definire con il comitato guida che rappresenta i portatori di interesse principali il comitente definire una bozza di master plan obiettivi bozza investimenti eccetera ora il punto che non si può fare un progetto top down che quattro diciamo pensatori pensano e poi la gente esegue il progetto non c'è più questa cosa per cui noi dobbiamo coinvolgere i portatori di interesse quindi se il comitente fosse anche uno o pochi poi agiscono nel territorio io devo portare dentro il tuo operetto del territorio della destinazione attenzione che se è un un borgo saranno gli operatori turistici di rincarmi del territorio se siamo su Scala Italia cercheremo gli operatori turistici specializzati sul tematismo quindi sulle cantine ci sono gli operatori turistici che sono specializzati sull'operetto nel vino eccetera ecco mettendo insieme quindi il sindaco l'operatore le guide quindi tutti gli hotel gli agriturismi cioè mettendo insieme quindi 50 100 200 abbiamo fatto anche diciamo dei workshop generativi usando i meccanismi della teoria U che servono per consolidare il progetto quindi vedere se risuona e capire anche che tipo di contributi possiamo e che tipo di sinapsi possiamo stabilire con con i portatori di interesse in modo che il progetto sia percepito e si senta come dire motivazione adesione da parte di tanti dopodiché si definisce un partenariato andiamo a formare gli Ote in quel territorio in quella destinazione formiamo gli Ote che con cui creiamo poi la progettazione della story living e a questo punto arriviamo ad iscrivervi ad Assode per cui garantiamo la professionalità e la validazione del prodotto e poi proponiamo la possibilità di costituire un credit prodotto si può costituire un credit prodotto ex novo ma ove è possibile suggeriamo anche di ecco questa è una cosa diciamo che abbiamo fatto da fine dell'anno scorso a quest'anno che stiamo operando in questo modo la creazione di sottoclub di prodotto cioè abbiamo un credit prodotto master che è Joint Place perché si porta dietro tutta una serie di regolamenti anche come dire l'intelaiatura organizzativa è fatta per cui non c'è solo di fare anche perché ci sono costi eccetera quindi io mi posso agganciare con un regolamento che specifica il mio sottoclub di prodotto mi spiego meglio perché penso ecco questo lo facciamo scusate allora diciamo che scusate adesso c'era questa slide che ci dice quali sono i servizi chiave per fare questo tipo di progetto allora una fase di analisi e di impostazione dove si va a vedere l'identità appunto cosa abbiamo chi lo vendiamo quindi qui noi dobbiamo avere le idee chiare cioè non è che una destinazione non va bene per tutti i turisti possibili può andare bene per tanti turisti ma dobbiamo trovare la sua vocazione quindi a qual è questo tipo di aggregazione a chi si vuole rivolgere a tutti e a tutti non andiamo a casa cioè cerchiamo le nicchie abbiamo visto degli appassionati di un argomento che è chiave per questa destinazione sono le cantine sono le cantine di alta gamma avremo un turismo luxuri eccetera 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 il workshop generativo generativo perché è bottom up cioè dal basso quindi c'è un'idea del progetto non è che si parte dalla lavagna bianca quindi vi proponiamo un progetto come risuona e abbiamo tutta una metodologia insomma che devo dire che siamo riusciti anche ad esercitare anche online non ci volevamo credere perché queste sono cose che fanno fanno fatte in presenza di solito dopo di che facciamo diamo la possibilità di fare il percorso base formativo il percorso completo per operatori la progettazione story living e poi il discorso del credit prodotto quindi sono sei punti di offerta per creare un progetto i dieci punti che avete visto prima ecco allora ecco qua volevo arrivare che se join place è il credit prodotto nazionale dei titolari dei castelli della loida hai capito quindi dove c'è il prodotto eclatante per cui io vado a fare questo poi questo poi questo perché ci sono dei castelli story living castello paradigmatico quindi ho dei prodotti delle attrazioni che sono tematiche fatte con un format innovativo e quindi questo mi porta ad avere il piacere di fare un viaggio e anche magari quest'anno ne faccio tre l'anno prossimo ne faccio altre tre capite come funziona per cui do anche il motivo del ritorno ecco allora il progetto di destinazione può diventare marchio d'area o un'aggregazione un'associazione un consorcio eccetera che si aggrega che esprime un marchio di identità e che diventa club di prodotto all'interno del join place che è un ombrello un ombrello ecco allora la cosa interessante è che eredita tutti i valori di join place però il marchio rimane il suo per cui lui si promuove con il suo dirà che fa parte anche di join place ma si propone con il suo marchio specifico e può fare la sua promozione ecco la promozione è l'altro tema di cui noi diciamo in prima battuta allora join place promuove vetrina ed è anche tour operetto per cui dà anche dei servizi andiamo alle fiere e tutto quanto però diciamo non ha milioni di euro di investimento sulla promocomercializzazione ogni marco d'area poi deve avere i necessari investimenti per promuovere la propria specificità e voi sapete che qualsiasi prodotto che comprate oggi al supermercato 100 in qualche modo se costa 100 60 70 sono i corsi della vendita dove per corsi della vendita ha detto sia il marketing ma anche la filiera quindi o dove in alcuni casi è tutto marketing o è tutta filiera ok se è B2B ecco diciamo che in estrema sintesi vi ho dato un po' lo schema di gioco per ecco siccome questa cosa diciamo noi l'abbiamo fatta decollare nel 2020 e la stiamo portando diciamo noi abbiamo 12 progetti oggi in cantiere per cui questo ecco ecco una cosa che posso dire per fare queste cose è molto importante essere presenti nel territorio quindi avere degli ambassador quindi apro le porte nel senso che con diciamo piani passi felpati ma noi sogniamo di poter avere gli ote anche degli ambassador con cui costruire questi progetti ecco ieri per esempio c'è stato appunto l'esempio del borgo di Mondaino o Mondaino adesso non so come si dica dove la nostra Giorgia Giacobuzzi è appena diventata ambassador di Artes allora con il suo presidio locale presidiamo le relazioni costruiamo il progetto poi noi abbiamo diverse competenze che nel corso di questi anni si sono aggregate che hanno tante competenze storiche nel turismo messe a sistema ecco in una logica dove tutti dovrebbero vincere ecco in una rete di reti ecco in questo modo noi pensiamo che ci vuole un po' di tempo un po' di pazienza ma che l'Italia può essere quello che il mondo sogna cioè l'Italia ha uno stile di vita sono gli italiani sono belle persone media rete ecco vedete questi due colored del New Jersey con la Imma che è la nostra la nostra ambassador e anche Ote della Basilicata che quando mi mandò questa foto disse alla fine dell'avventura erano felicissimi qui erano dopo un quarto d'ora erano già casati vedete in questi occhi io sono rimasto colpito dall'entusiasmo questo è il livello dove noi dobbiamo portare il turista questo esprime il prodotto l'intangibilità di un prodotto sofisticato che ti deve portare a vivere veramente cioè dove memorabile unico ripetibile non è uno slogan di marketing ma c'è una costruzione di prodotto e un sistema di relazioni vere autentiche familiari che porta la relazione a creare questo stato d'animo e quindi diciamo una relazione che rimarrà per sempre infatti Imma con tanti turisti che ha avuto si iscrive allora diciamo che abbiamo completato ecco spero di avervi dato ecco vediamo un po' se per caso ci sono delle domande allora sì c'è una domanda mi chiedono buongiorno che differenza c'è tra Ote e ambassador allora l'ambassador è di fatto è una persona che ha sposato il progetto artes lo ha sposato l'Ote potrebbe anche essere indipendente diciamo dalla società artes scusate l'Ote è un operatore di turismo esperienziale che è un freelance che opera in modo diciamo autonomo potrebbe essere dentro joint place oppure no sa creare organizzare e erogare prodotti di turismo esperienziale l'ambassador non è detto che sia un Ote però sicuramente è una persona che ha sposato la filosofia di artes per cui in qualche modo pur facendo altri mille lavori perché oggi nessuno fa una cosa sola ma ha sposato la visione di artes del progetto artes e in qualche modo lo rappresenta verso le relazioni che lui ha nel territorio quindi diciamo è artes in qualche modo noi abbiamo un gruppo di una decina di ambassador diciamo che vorremmo averne 40 di ambassador 100 ambassador però siamo anche lenti nel reclutamento perché vorremmo garantire un tipo di adesione valoriale un attimo prima che sia un'adesione monetaria ecco in qualche modo qui mi chiedono progetto esempio che ha fatto relativo a Venezia ma adesso non so perché Venezia abbiamo dunque noi tre anni fa abbiamo fatto un progetto da cui è nato Join Place Join Place è nato da un progetto di regione Veneto che si chiamava Story Living era un progetto finanziato ma il progetto che noi abbiamo proposto rispondeva alla call sul turismo esperienziale la call del progetto Veneto era abbiamo bisogno di nuovi prodotti nuove competenze e noi abbiamo dato nuove competenze nuovi prodotti e siamo arrivati a fare il credit prodotto però a quel punto il credit prodotto nato in regione Veneto l'abbiamo immediatamente allargato a tutta Italia per cui diciamo grazie al Veneto abbiamo avuto i finanziamenti come si può diventare ambassador scriveteci entriamo in contatto e allora adesso mi chiedono di far vedere ancora la slide su dieci punti adesso non riesco ancora a farla vedere perché devo lasciarvi perché vedo che stanno già entrando i relatori del prossimo del prossimo allora comunque concettualmente i punti sono l'analisi del S.E. questo è un processo diciamo standard è come sempre uno scheletro noi ci muoviamo con processi Toyota diceva io non ho i geni dentro la Toyota ho persone eccezionali ho processi eccezionali ho persone normali quindi noi dobbiamo creare un sistema di processi industriali nel turismo che nell'incoming qualche volta mi sembra che ancora un po' manchino quindi benvenuti chi si occupa chi lavora in questo modo e fare come ha fatto Toyota che trasformare l'Italia in un giardino fiorito di mille fiori diversi però sono coltivati e gestiti con processo con professionalità ecco quindi il processo di generazione di un'offerta di destinazione è l'analisi delle SIS la condivisione con un workshop generativo quindi vuol dire un momento in cui catartico in cui mettiamo insieme i portatori di interesse che con cui si consolida la prospettiva di progetto ma si consolida la motivazione di adesione la collaborazione perché senza quello non si va da nessuna parte e poi c'è l'aspetto formativo degli OTE la costruzione del prodotto Story Living in sostanza e il club di prodotto ecco con questo allora come si diventa ambassador scrivete che in qualche modo ve lo diremo perché adesso devo lasciarvi il mio amico Bruno Bertero che è direttore marketing del studio di Venezia Giulia vedo che è già dentro in sala io vi ringrazio chi fosse interessato allora ripeto il processo per diventare ambassador diciamo noi mettiamo tanti filtri davanti quindi ve lo dico subito ma se troviamo similitudine adesione ecco la prima cosa vi suggerisco di partecipare a uno dei nostri corsi almeno così almeno il corso base capite cosa stiamo facendo diciamo che come minimo gli ambassador non hanno partecipato al corso base vi ringrazio ancora e vi saluto e buona continuazione ci vedremo ancora oggi secondo chi ci vedrà grazie e arrivederci